Apprendiamo di due iniziative interessanti, si fa per dire, nel senso che in qualche modo anticipano i tempi che verranno di due amministrazioni comunali dell'Emilia-Romagna, da un lato il comune di Bologna, dall'altro il comune di Fidenza. A Bologna che cosa succede? Hanno introdotto una card digitale, rivolta ovviamente e solo ai cittadini volontari, come sempre accade in simili casi quando si fanno degli esperimenti sociali, la quale prevede, oltre alle altre cose, cioè la possibilità di accedere in maniera più veloce e conforme a quello che è la digitalizzazione imperante del mondo in cui viviamo, prevede anche la possibilità di avere dei premi sotto forma di scontistica per i cittadini appunto che si rivelano virtuosi. In che senso virtuosi? Per esempio che utilizzano i mezzi pubblici, che non prendono multe dalla pulizia municipale, che utilizzano la card cultura, che fanno buon uso dell'energia. In quel di Fidenza invece è stato introdotto un altro esperimento, un po' più invasivo, che riguarda gli occupanti, quindi gli inquilini, delle case popolari. Sostanzialmente sono stati muniti di una tessera, chiamiamola così, virtuale o fisica, non importa, che assegna a ciascuno 50 punti. Questi 50 punti non sono per sempre come i famosi diamanti. Perché? Perché uno li può perdere. Li può perdere tenendo dei comportamenti che non sono conformi a quelli che l'amministrazione comunale evidentemente, magari anche giustamente, ritiene corretti. Ecco così che tu, se in qualche modo sporchi, occupi l'androne comunale o le scale, puoi perdere 25 punti. Lo stesso se fai magari il barbecue sul balcone o se comunque non ti comporti in maniera corretta rispetto a quelle che sono le regole comuni. Ovviamente la cosa grave nel caso di Fidenza è che se l'inquilino malauguratamente si rivela particolarmente discolo e perde tutti e 50 i punti della sua carta fedeltà, perde anche il diritto di abitare nelle case popolari. Che dire a proposito di queste due iniziative? Perché queste due iniziative in qualche modo ci inquietano? Non tanto perché in sé per sé, in questo momento, siano particolarmente gravi, ma perché ci anticipano, come ho detto in apertura, quello che è un modello non precisamente liberal-democratico, anzi un modello che oggi è già in uso, in maniera abbastanza diffusa e pressante, sicuramente sperimentata in quella che possiamo definire come stato totalitario, stato dittatoriale, sicuramente non stato liberal-democratico, che è la Cina, la grande Cina. La Cina, come sapete, i crediti sociali sono già all'ordine del giorno, quantomeno in circa 44 città dell'antico impero celeste, dove per l'appunto le persone hanno questi crediti sociali che possono essere implementati o ridotti a seconda del comportamento più o meno virtuoso del cittadino, il quale può arrivare addirittura a perderli del tutto e per questo perdere dei diritti elementari, come per esempio quello di viaggiare attraverso i mezzi pubblici, o addirittura può essere messo all'agonia nei centri commerciali con tanto di schermi giganti, proprio perché sia ben chiaro e rimarcata la censura che il regime in qualche modo riserva a tutti coloro che non sono abbastanza obbedienti. Quindi un modello, abbiamo detto, che non è assolutamente liberal-democratico. Perché? Perché nella liberal-democrazia o comunque nelle cosiddette democrazie, diciamo in quelli che vengono definiti modelli di governo, se volete anche occidentali, liberali, eccetera, la chiave di volta fondamentale è, o perlomeno dovrebbe essere, il motto per cui tutto ciò che non è vietato è permesso. Soprattutto lo Stato non è intrusivo nella vita personale del cittadino, semplicemente lo punisce attraverso sanzioni amministrative o anche penali, nel momento in cui il cittadino viola la legge, cioè tiene dei comportamenti non consentiti. Ma per tutto il resto, in linea di massima, e salvo riforme degli ultimi anni, come ad esempio la patente a punti per la guida delle macchine, il cittadino è libero di fare quello che vuole e quindi è libero di tenere la vita e l'esistenza che ritiene più consona quelli che sono i suoi principi, i suoi valori, ma lo Stato non gli entra dentro, non gli entra in casa, non pretende di monitorare 24 ore su 24 ogni suo singolo comportamento per punirlo o per premiarlo. E quindi questo è un primo grosso problema che presenta le iniziative di questo tipo. Il secondo è quello del conformismo sociale. Cosa intendiamo? Intendiamo dire che quando si introduce il concetto di punteggio rispetto al comportamento di un membro della collettività, andiamo evidentemente ad arrecare un vulnus irrimediabile a quella che è la caratteristica prima e fondamentale sempre di un governo e di un modello di cittadinanza liberale e democratico, come è quello in teoria introdotto dalla nostra Carta Costituzionale è entrata in vigore il 1 gennaio del 1948. Qui in Italia, fino a prova contraria, anche se purtroppo negli ultimi due anni prove contrarie ne abbiamo avute parecchie, i diritti inviolabili sono sanciti nei primi articoli della nostra Costituzione dall'1 al 54 e sono inviolabili proprio perché non possono essere violati. Il cittadino che nasce in Italia li ha e li conserva per sempre. Non è che li perde perché tiene un comportamento un po' difforme da quello gradito al governo di turno. Per questo vengono definiti diritti inviolabili. Quando invece tu introduci il concetto di punteggio, evidentemente trasformi questi diritti in benefit, trasformi questi diritti in concessioni dello Stato, che puoi sì mantenere se ti comporti in un certo modo, ma puoi perdere anche irrimediabilmente se fai qualcosa o dici qualcosa che al padrone del vapore di turno non va affatto bene. Quindi vedete come abbiamo uno slittamento assoluto, completo, radicale, da quello che è un diritto incomprimibile, inconculcabile, a quella che è invece una gentile concessione del sovrano. Quindi per queste due ragioni, il fatto dell'intrusione dello Stato nei temi etici e quindi nelle scelte di vita individuali del soggetto, a cui aggiungiamo il tracciamento invasivo di tutte le attività, di tutti i pensieri, di tutte le opzioni praticate da un cittadino, a cui aggiungiamo ulteriormente il conformismo sociale, quindi la possibilità di perdere ciò che un tempo era considerato un diritto assolutamente inviolabile, ecco, se noi mettiamo insieme tutte queste caratteristiche dei modelli che sono presenti in nuce negli esperimenti di Bologna e nell'esperimento di Fidenza, comprendiamo quanto drammaticamente ci stiamo avvicinando a qualche cosa che è quanto più lontano possa esserci dal format che avevano pensato i nostri padri costituenti. E se ci fate caso, il famoso Super Green Pass ha proprio questa caratteristica fondamentale. Io non ti punisco per il fatto apparentemente, non ti obbligo a farti il vaccino, non ti punisco se tu non accedi alla salvifica inoculazione, molto semplicemente ti rendo la vita praticamente invivibile per quanto riguarda evidentemente il lato ricreativo e sociale. Quindi sarai letteralmente un cittadino di serie B, ma io, Stato, potrò ipocritamente continuare ad affermare che sei un cittadino come tutti gli altri, molto semplicemente hai perso dei diritti perché non hai fatto i compiti per casa, come tutti gli altri consociati, come tutti gli altri tuoi pari. Bene, siamo arrivati a un punto veramente delicato della nostra storia, ricordiamocelo quando andremo alle urne nel 2023 e per capire che cosa rischiamo potrebbe essere utile rifarsi ad un racconto che era contenuto in un testo, La Folla Solitaria, dello scienziato David Risman, il quale ebbe a riportare la storia che andava molto di moda nell'America del secolo scorso, metà del secolo scorso, che si chiamava Tudol, la locomotiva. Era un racconto per bambini che vendette centinaia di migliaia di copie, che sostanzialmente raccontava le vicende, la biografia di questa piccola locomotiva che a un certo punto, non appena entrata nell'età, diciamo così, della ragione delle locomotive, nel racconto ovviamente per bambini di cui stiamo parlando, gli veniva insegnato che doveva rigorosamente attenersi ai binari stabiliti e non uscire e doveva fermarsi quando trovava una bandiera rossa. A un certo punto Tudol la locomotiva, che era evidentemente una ragazzina o un ragazzino, se preferite, molto voglioso di novità e molto curioso come sono tutti i ragazzini, cominciò a uscire dai binari e quindi faceva delle belle scampagnate sui prati limitrofi alla linea ferroviaria. A un certo punto, quindi, il sistema in cui Tudol la locomotiva era inserito, si rese conto che c'era un grosso problema. C'era una locomotiva, una sbarazzina, che faceva di testa sua. L'idea che trovarono per evitare questo tipo di deviazioni dai binari tracciati fu quella di piantare bandiere rosse ovunque, quindi tutto lo spazio che delimitava i passanti della ferrovia venne riempito di bandiere rosse e siccome Tudol era stato educato fin da piccolo a fermarsi di fronte a una bandiera rossa, finì per correre in maniera diligente e volontaria sempre e solo sui binari tracciati, sempre e solo sulla linea ferrata consentita. Come chiude David Riesman questa favoletta? Come la commenta? Con queste parole con le quali anche vorrei chiudere il mio intervento. La storia di Tudol la locomotiva sembra scritta apposta per allevare i bambini, voi leggete i cittadini, secondo un tipo di conformismo etero diretto. Essi imparano che non conviene uscire dai binari per giocare coi fiori e che a lungo andare chi segue le luci verdi troverà non soltanto il successo e l'approvazione altrui ma perfino la libertà. La libertà quindi che non è più quel diritto assoluto che noi conoscevamo e che avevamo imparato ad apprezzare leggendo la nostra Costituzione ma che diventa una concessione del sovrano di turno.